ciao a tutti oggi una ricettina facile facile è un antipasto e sono le alici indorate e fritte prima cosa da fare è quella di infarinare le nostre alici inambulati così e le mettiamo da parte secondo passaggio le uova intere e andiamo a sbatterle devono essere belle montate prendete i filetti le immergete e tuffiamo in olio caldo quando saranno belle dorate su tutti i due lati le togliamo l'ultimo tocco finale un po di sale un po di pepe e una grattata grattugiata di limone non trattato